Dopo giorni di relativa tranquillità nel comune capoluogo, per un'ironia della sorta, torna la paura e riguarda proprio il rione Carmine, colpito nelle settimane scorse già da una serie di casi positivi al coronavirus che hanno fatto tremare tutta la popolazione residente e resa necessaria la chiusura di diverse attività commerciali. Questa volta però il contagio arriva da Battipaglia e si intreccia con il comune capoluogo. Una persona residente nel quartiere del Carmine a Salerno è infatti dipendente dell'ortofrutta della cittadina della Piana del Sele nella quale nei giorni scorsi sono stati registrati altri due casi di covid, ovvero la donna titolare della rivendita ed il figlio un bimbo di soli due anni. Il nuovo caso positivo registrato a Salerno, come hanno fatto sapere dall'ASL, era però già sotto osservazione proprio per il legame con l'ortofrutta. Non si registrano al momento altri casi positivi. Soltanto ieri nel quartiere Carmine si era registrato a con sollievo la riapertura dell'oratorio dei Salesiani, l'importante centro di aggregazione giovanile che propone un articolato programma di accoglienza per i ragazzi del quartiere che aveva preferito fermarsi onde evitare rischi. Grazie.